I proverbi o disparates, titolo originale e autografo, sono l'opera più oscura, più enigmatica ed ermetica di Goya. Questa incisione, intitolata Una regina del circo, rappresenta la puntuale sciocchezza. Qui il soggetto del dipinto è una sfilata in cui clown, musicisti, uomini forzuti si esibiscono davanti a un teatro o una tenda per sollecitare i clienti a entrare. Questi spettacoli erano popolari durante il XVIII secolo in relazione alle esibizioni della commedia dell'arte e alle fiere. Il circo Fernando di Impianto Stabile era frequentato dalla classe media parigina e amato dai giovani pittori dell'epoca. In quest'opera Degas non è interessato a raccontare l'audacia del numero interpretato da Mademoiselle Lalà, bensì raffigura il momento in cui si libra in aria con le architetture circensi sullo sfondo. Serra vide il quadro in una parete del ridotto del Moulin Rouge e ne rimase fortemente colpito, sia per la dinamicità che per i colori. Il domatore con la frusta in mano è il celebre Monsieur Loyal. Da documentazioni esistenti, il dipinto risulta acquistato per la prima volta da Ziedler e Ohler, entrambi parigini, poi passò al barone Lafori. Oggi è conservato all'Art Institute di Chicago. Sebbene questo dipinto non fosse ancora completato alla morte del pittore avvenuta nel 1891, Serra lo aveva già esposto quell'anno al Salon des Indépendants. Voleva sottolineare il suo ruolo di protagonista nella pittura moderna. Il circo era quello di Fernando, non lontano dallo studio di Serra. L'opera raffigura sei saltimbanchi, un tipo di artista circense itinerante, sullo sfondo di un paesaggio desolato. È considerato il capolavoro del periodo rosa di Picasso, a volte chiamato anche periodo circense. L'artista frequentò spesso il circo medrano a Montmartre e quest'opera ne è sicuramente una prova. Lo stile dell'espressionista Kirchner fissa con tratti spigolosi e colori in contrasto un cavaliere al circo. Il cavallo sembra impennarsi e le forme concentriche presenti sullo sfondo sottolineano la forza espressiva di questa esibizione circense. Dedicato alla sua seconda moglie Valentina Brodsky, questo lavoro è una rappresentazione eccezionalmente dinamica e vibrante del circo, uno dei soggetti più celebri di Chagall. Una fonte continua di ispirazione per l'artista per tutta la sua vita. Una magica terra dei sogni che lo trasportava nel mondo parallelo del subconscio. Lo stile inconfondibile di Botero, dalle figure abbondanti e generose, ci offre questo curioso e divertente dipinto in cui acrobati, clown e domatori sono fissati in pose rigide e con i volti inespressivi. Solo il cavallo al centro del dipinto sembra abbozzare un sorriso beffardo. Tre acrobati assistono a una donna che ha avuto un incidente. Il suo corpo, inerte, viene portato via. In primo piano una figura è piegata dal dolore. In questo lavoro il circo rivela la sua duplice natura, l'allegria può trasformarsi istantaneamente in profonda tristezza. Pericolo e morte rimangono costantemente in agguato. Se il video ti è piaciuto metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici e ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!